Anche quest'anno siamo a carnevale. Ormai non è capolone la tradizione, sono 100 anni che si fa. Prima l'avevo fatta a Campolivaccio, ora fino a noi, quindi siamo sempre qui. Oh, cosa mi offrite? Noi il martedì l'ultimo carnevale siamo sempre qui. Per il prossimo anno torna che siamo sempre qui. Ancora è presto, via. Ma quest'anno il tempo ha aiutato. Il tempo noi non abbiamo problemi, sono 10-50 anni che l'ultimo carnevale non piove. Il freddo tanto, ma per il vino a noi non piove. Il carnevale di Capolona ci si diverte? È abbastanza, in particolare perché a 42 anni c'è sempre la passione della musica. Risentire i brani anche vecchi fa sempre piacere. Ma balli? Ma adesso no, ma con l'occasione si trova una bella ragazza. Giusto! Sindaco, anche oggi è carnevale, com'è? Ogni scherzo vale. Ogni scherzo vale, è lo scherzo di oggi. Oggi bello, bella giornata, quindi siamo tutti contenti. I ragazzi si divertono. I ragazzi si divertono, c'è anche l'accordo che sono qui, quindi questa è una bella festa per tutti. Poi più tardi abbiamo questa delegazione di quasi 30 tedeschi che sono venuti a Capolona questa settimana. E quindi sono stati invitati alla festa di carnevale? Certo, più tardi arrivano, speriamo che rimanca qualcosa. Sì! Ciao, da cosa sei vestito? Da Mario. Da Mario? Ma sei forte come Super Mario dei Giochini? Te da cosa sei vestita? La regina dei cuori. Di Alice? E ti diverti oggi? Sì. Ma sei andata a mangiare qualcosa? No, l'abbiamo mangiata a casa. E le farfalle, com'è mai questa idea? Non so io quell'idea, ma c'ho a mister. Ma è sempre bello il carnevale? Sì, eh. Sì. Ma la musica? Meglio. Meglio, eh. Meglio. Ma ora va a ballare? No. Tutti gli anni vengo qua giù, 33 anni che vengo qui a questa festa, perché conosco quello che la fa e allora ci vengono anche volentieri che la mia moglie erano amici di lavoro, con la sua moglie. Ma cos'è che ti piace di più? La pulenda, tutto, tutto, buono tutto. Sia le paste che il salsiccio che la pulenda, via. La pulenda è un po' salatina quest'anno, però altre volte è stata un po' meglio. Com'è? È buona? Certo che è buona. Vedo che si mangia di gusto qui, eh? Certo, certo. Mangiamo di gusto qua. Ma cos'è? La capolona. È pulenda con il sugo e io ci ho fatto aggiungere anche i salsicci. Oh vai! Siamo qui a sporzionare anche quest'anno? Ma cosa va di più? La pulenda, i salsicci? I salsicci? I salsicci vanno più e più. Per le donne più i salsicci. Invece all'opera è più la pulenda, le piace. Abbiamo qui un pagliaccio. Sì. Il clima del carnevale? È bellissimo. Ma oggi che giornata è? È il 17 febbraio. Ma il clima ci ha aiutato. Ci ha aiutato, sì, è vero. Ma cos'è che ti piace di più, mangiare o ballare? No, ballare. Ma cos'è? ti posso chiedere da cosa sei vestita? io ho il filo di vestite da Puu e com'è Puu? Ha un orsetto? ma ti diverti? pozzi quanta polenta l'avevo preparato? 50 kg 50 kg? Entro stasera finisce tutta? Tutta, tutta, 70 kg di pasta 70 kg di pasta, le salcicce quant'erano? Un quintale Mamma mia, eh? Che pensate, mi chieste con l'acqua, capolona? Ma vi divertite anche voi a preparare? Sì, sì, ragione, ragione Dovete sapere, cittadini, che è tutto gratis Quando mai si trova dei posti tutto gratis, mai Abbiamo Minnie qui? Sì, ti rispondi? Sì Ma ti diverti oggi? Sì Figurandoli li hai tirati? Sì La schiuma? No E l'asilo che avete fatto stamattina? Abbiamo ballato Wow, allora ci sei andata a ballare? Ciao, com'è suonata il carnevale? Quest'anno bene, caldo, no? Stiamo bene Poi c'è l'allegria, certo Poi c'è l'allegria, certo Per me il carnevale mi piace parecchio E vorrei essere una diva Perché essere una diva è molto bello Non è una provocazione Perché il carnevale è la verità dei bambini Dei bambini, degli adulti Della serenità delle mamme, dei papà e di tutti Abbiamo la presenza dell'accordo Ma cosa rappresenta una giornata come oggi per i ragazzi? Divertimento, allegria, spensieratezza Credo che sono anche delle buone porchetto Molto Non si arrendono queste cose Ci sono problemi Sono sempre pronti per mangiare L'ultimo di carnevale, la consuetta festa capolona Ebbene sì, fortunatamente ancora esiste Fortunatamente c'è ancora qualcuno Che ha voglia di impegnarsi gratuitamente Per la popolazione Per dare un pomeriggio di gioia Di festa ai bambini Quindi grazie a tutti quelli Che ancora hanno voglia di impegnarsi Impegnarsi, dedicarsi Insomma sono giorni che lavorano E quindi grazie ai volontari Oggi è un giorno d'allegria I bambini si divertono C'è la musica, si mangia Si mangia, si mangia anche bene I bambini sono in un posto sicuro Corrono liberi e tranquilli I genitori stanno 10 minuti tranquilli anche loro Quindi perfetto, oserei dire È un po' fresco ma Ma il tempo non è assistito quest'anno Sì, quest'anno sì Gli altri anni ha qualche volta anche piovuto Quest'anno almeno è tempo bello Quindi bene Grazie a tutti